Ciao a tutti sono Laura Valenti ed eccoci qua nella nostra cucina di blog Bocabuona qui ho il mio gattino che mi sta sregando le gambe perché vuole qualcosa da me vediamo se dopo gli diamo qualcosina oggi ho una ricetta come quelle che piacciono a me, semplici, semplici, semplici ma perché mi piacciono le ricette così semplici? mi piacciono perché io so che al giorno d'oggi tutti siamo super presi di lavoro, di occupazioni, figli, mariti, suoceri, genitori a me piace pensare in qualcosa di sfizioso ma che non ci rubi troppo tempo in cucina perciò oggi voglio fare una semplice sfogliata di mele ho proprio voglia di mele dopo essere passata la stagione delle albicocche, delle pesche, dei frutti di stagione estiva ho voglia, ho proprio voglia di mele perciò oggi una bella sfogliatina di mele facilissima andiamo grazie a tutti grazie a tutti